Periferie controllate e maggiore sicurezza sulle strade. È il risultato dell'ennesima azione di controllo valuta dalla Comune di Ebole, realizzata dal Comando della Polizia Locale, in collaborazione con gli agenti della Questura di Salerno. Insieme con il Comandante Marco Garibaldi erano presenti direttamente il Sindaco Massimo Cariello ed il Delegato Comunale della Sicurezza Giuseppe Labrocca. La maxi operazione dei caschi bianchi è garantito la sicurezza dei residenti e dei tanti automobilisti in transito lungo la strada statale 18, nella zona di Cioffie, nell'area di Campolonco, a confine con Battipaglia. Con la Polizia Locale è partecipato anche il nucleo anticrimine della Questura di Salerno, oltre 100 veicoli verificati e ben 8.000 euro di multa, due verbali per mancata assicurazione, un verbale per guida senza patente ad un pregiudicato di Bellizzi, sette verbali per mancata revisione dell'automezzo, una contravvenzione per mancanza di documenti, infine un verbale per patente scaduta. Grazie a tutti.